Corecom sarà creata una nuova app gratuita per accedere ai servizi del Comitato regionale per le comunicazioni, le indicazioni del Consiglio regionale. Sostegno al sistema economico, approvati nuovi contributi per il sistema neve, quello del mobile e per i cammini regionali. Geotermia, contributi ai comuni, approvata una norma transitoria per consentire il passaggio dell'attuale consorzio in società in house. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Via libera del Consiglio regionale al programma di attività del Comitato regionale per le comunicazioni. Approvata dal Consiglio la proposta di risoluzione per sostenere le azioni in materia di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura attraverso il progetto del patentino digitale. Approvato anche un ordine del giorno presentato dalla vicepresidente della Commissione Cultura, Luciana Bartolini, per la creazione di una app gratuita in grado di fornire ad ogni cittadino la possibilità di accedere ai servizi offerti dal Corecom. Sentiamo le interviste con la Presidente e la Vicepresidente della Commissione Cultura. Il Consiglio approva il programma delle attività 2022 del Corecom, che è un organismo poco conosciuto forse dai cittadini toscani, ma fondamentale per i loro bisogni in materia di informazione, di comunicazione, di telecomunicazioni. Il Corecom svolge un'importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal Corecom negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più il Corecom svolge un'importantissima attività informativa ed educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della Quinta Commissione è quello, senz'altro, del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del Corecom, per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali, a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti che sono fondamentali, che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è ben in guardia sui pericoli che possono venirne. Nell'ambito della discussione in Commissione è emersa anche la proposta di costruire un'app per diffondere la conoscenza e l'uso del riferimento al Corecom nei cittadini toscani. Il Presidente Broggi stava pensando a qualcosa di analogo, ha accolto la proposta della Vicepresidente Bartolini e quindi siamo arrivati davvero alla massima soddisfazione, all'unanimità dell'approvazione del programma che poi è stato portato in aula e approvato a larghissima maggioranza. Abbiamo votato favorevolmente la proposta di risoluzione sul Corecom, così come avevamo fatto anche in Commissione, dove avevo dato dei suggerimenti al Presidente e li aveva accolti favorevolmente. Abbiamo presentato per questo un ordine del giorno proprio per permettere ai toscani di conoscere il Corecom perché la maggior parte non sanno che cos'è. Questo Corecom può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione e lo scorso anno addirittura ne ha risolte circa 10.000 e sono gratuite. Quindi è importante farlo conoscere e per questo ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il Corecom. Inoltre è ancora positivo il progetto che partirà nel 2022 sul patentino digitale e saranno, diciamo, preparati 20 giovani per poter andare nelle scuole proprio per metterli in guardia, creare delle buone pratiche contro il bullismo e contro tutte le problematiche di violenza che ci sono sulla rete, sia per il discorso dell'odio, delle parole, ma anche per questo Squid Game che ultimamente sta prendendo piede tra i giovani e un gioco di una rete televisiva Netflix che crea grossi problemi di violenza ai bambini. Siccome i genitori non sempre riescono a parlare con i propri figli, bisogna che le scuole se ne facciano un po' carico e in questo anche il Corecom può darci una mano. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha approvato una proposta di legge che prevede tre interventi a favore del sistema economico toscano a sostegno di imprese e comparti colpiti dall'emergenza da Covid-19. Il primo a favore degli operatori del sistema neve, poi un contributo straordinario al centro sperimentale del mobile per il progetto By Design e infine risorse per il miglioramento della fruibilità dei cammini regionali. Sentiamo anche in questo caso le interviste. Si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve dove si stanzano 800 mila euro vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno tutti i gestori a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150 mila euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri, con il sistema delle camere estere, con la Università di Architettura di Firenze e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230 mila euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana. Voi sapete che ce ne sono tantissimi che sono un settore di grande risposta turistica in questo momento e che sono stati valorizzati in questi anni tantissimo dalla stessa regione. Queste risorse consentono a tanti comuni di poter continuare questi lavori che erano rimasti appunto parzialmente eseguiti. Oltre un milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato, 800 mila euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile, il centro sperimentale mobile di Poggi Bonzi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo, del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150 mila euro e poi oltre 200 mila euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di un milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Come Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi ormai da un anno un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo più di altre zone il lockdown e la pandemia. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti ecco questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno pensiamo che si possa fare ancora di più ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica strettamente legate alla cosiddetta industria della neve che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività magari in zone più marginali che vengono definite montagne soltanto sulla carta che hanno avuto difficoltà ma non del 100% quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla regione per alzare i massimali perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere da Betone Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport del 2022 perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopopandemia il più forte possibile. Oltre ai contributi per le attività economiche il Consiglio regionale ha approvato una norma con la quale si assegna direttamente ai comuni geotermici la quota parte delle risorse derivanti dalla geotermia si tratta di una norma transitoria che resterà in vigore il tempo necessario alla trasformazione del consorzio geotermico in società in aus della regione con le interviste partiamo ancora con la Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti Si tratta di una norma transitoria che la regione toscana ha approvato questo pomeriggio riguardante la possibilità per i comuni geotermici quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio è una norma transitoria perché la regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31-12-2022 per ragionare con COSVIG che è la società che si occupa della riscossione in aus quindi far sì che ci sia una società gestita dalla regione toscana il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo quindi si parla come dicevo del 31-12-2022 nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia il Consiglio ha approvato una legge con una norma transitoria che nel prossimo anno 2022 vedrà i contributi derivanti dall'attività geotermica trasferiti direttamente ai comuni in quanto COSVIG ha in atto un percorso per trasformarsi in società in house della regione come sappiamo la regione ha investito in COSVIG ha aumentato la propria quota all'interno della società per farne una vera e propria agenzia di sviluppo delle aree geotermiche abbiamo da mettere a punto questo aspetto formale poi dall'anno successivo dal 2023 le risorse provenienti dalla geotermia saranno nuovamente attribuite a COSVIG che le investirà sulla base dei progetti dei comuni ieri abbiamo votato un atto sulla geotermia molto importante seppur un atto tecnico perché riguarda la possibilità per i comuni di attingere finalmente ai fondi che li riguardano sono due ambiti molto importanti nella nostra regione perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio e questo potrebbe anche essere ampliato è chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024 e se non si riesce a fare una gara magari avere una proroga sicuramente le concessioni devono essere devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche perché no crescere svilupparsi visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante e ne parlavo anche con il sindaco Bagaggini Pian Castagnaio piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti è una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale e si è trattato della questione del Cosvig e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versati ai comuni in attesa che Cosvig diventi un in house della regione toscana e devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa in quanto l'argomento dell'energia atteneva la quarta commissione fino alla scorsa legislatura e perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro e questo secondo noi è un passaggio grave che manca e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del Cosvig le attività che faranno quanto impatterà nel bilancio perché la geotermia bisogna dire chiaramente una cosa c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente quella bassa entalpia quella delle piccole impianti compresi quelli domestici e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata ci sono quelle invece che fanno geotermia un tipo di geotermia che è speculativa che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è presenta problematiche differenti in alcuni casi è completamente innocua anche dal punto di vista ambientale in altri casi come sulla miata abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui uno studio lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto quindi prudenza perché la geotermia è una grandissima risorsa ma bisogna saperla sfruttare bene deve essere sfruttata nell'interesse della popolazione e dell'ambiente e soprattutto bisogna molto fare attenzione a dove questa viene praticata è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti